Una grande passione che è quella per la musica e per la musica classica in particolare è una grande consapevolezza. Questa grande passione possa essere messa a servizio per il bene comune, per il bene collettivo e quindi in questo caso per la lotta alla criminalità organizzata e per l'educazione alla cittadinanza attiva. Il concerto di questa serie in particolare vede sul palco un grande pianista, Gabriele Carcano, ex allievo di questo conservatorio che ha voluto metterci la fa. È una maniera un po' diversa dal solito ma sicuramente suggestiva di stare insieme e stando insieme così di continuare a parlare di memoria, di impegno, di problemi, di futuro, tutti quanti insieme da realizzare sempre più incisivamente sul versante della legalità e dell'antimafia. Mi fa piacere, sono onorato per tante ragioni perché è la mia città, perché è la prima volta che mi capita di collaborare con Libero, comunque di cercare di offrire quello che faccio per qualcosa che non è solamente la mia normale attività concertistica, ma per un valore sociale in cui credo molto e devo dire che organizzare questa serata così con un'amica che lavora a Libera, con cui siamo vicini da tanti anni e nella mia città appunto con la partecipazione del procuratore Caselli è davvero un'emozione. E spero soprattutto che sia per me e per Libero anche un modo per cercare una collaborazione futura e continuare su questa strada. Io penso che offrire arte e cultura sia importante e soprattutto penso che sia importante che noi musicisti ci avviciniamo un pochino di più al pubblico e che magari dismettere un po' questi abiti da vecchi e cercare di offrire veramente quello che facciamo. La serata serve per sostenere uno dei progetti principali del periodo estivo di Libera, cioè Armonia, un festival che vuole ricordare Bruno e Carla Caccia. Avviene infatti negli ultimi giorni di giugno, il 22, 23 e 24 giugno, proprio in memoria del procuratore ucciso a Torino il 26 giugno del 1983. Grazie.